Sit-in davanti a Castrogno dei sindacati di Polizia Penitenziaria per tornare a ribadire la situazione drammatica del carcere Terramano. La presenza di circa 440 detenuti in sovrannumero di quasi il 200% e l'annosa carenza di personale hanno portato ad un esponenziale aumento degli eventi critici. Sì, c'è sempre stata scarsa considerazione su Termo, ma gli ultimi eventi hanno proprio dimostrato, accertato che l'amministrazione centrale di Termo non importa nulla. nulla ha fatto prima, nulla sta facendo adesso, nulla penso che farà dopo. Il problema più grave, avete ribadito, è la carenza di personale. Avete detto che si porta avanti questo carcere solo perché i pochi agenti che ci sono sono tutti esperti. Sì, oltre ad essere esperti si sacrificano, sacrificano le loro famiglie, stando in carcere per ore e ore oltre il proprio turno di servizio. Noi stiamo a chiedere di aumentare l'organico e il personale e in particolare in modo di sfoltire, di sfollare almeno 100 detenuti. Al sit-in hanno partecipato anche il sindaco di Terramo, Gian Guido d'Alberto, che ha annunciato che presto verrà convocato un consiglio comunale straordinario sulla situazione del carcere. E' l'onorevole Giulio Sottanelli. L'intervento deve essere immediato, la situazione qui sta esplodendo, è insostenibile e continueremo come istituzioni a cominciare dal prossimo consiglio comunale che è stato richiesto come straordinario e che concorderemo con anche tutte le rappresentanze sindacali che ringrazio per il loro lavoro decisamente importante per la tenuta della vita carceraria, che sia il più efficace possibile e soprattutto pretendendo delle risposte. Assistiamo purtroppo quasi a un suicidio al mese e non è più sostenibile né per chi è ospite all'interno ma soprattutto per chi ci lavora non è corretto. Quindi ognuno deve assumere le proprie responsabilità, se ci sono delle responsabilità la magistratore le accerterà.